Il tema della pace, come verrà analizzato? E chi lo sa, nel senso che innanzitutto non sappiamo a che punto saremo quando arriveremo al Salone del Libro. Quindi chissà se ci sarà ancora la guerra, se sarà finita, come sarà finita. Certo è che l'auspicio è che la guerra sia finita quando arriveremo al Salone del Libro, però sicuramente anche in questo caso avremo un mondo molto diverso rispetto a quello in cui avremmo immaginato di vivere soltanto fino a pochi mesi fa. E allora ci saranno, rispetto al conflitto in atto, come dicevo tutta una serie di grandi inviati che in questo momento sono lì, parlavo di Nello Scavo, Cecilia Sala, Francesca Mannocchi e così via, saranno appunto autori dall'Ucraina, dalla Russia e così via. Però fondamentalmente secondo me un po' tutti gli scrittori, le scrittrici, i pensatori che verranno al Salone si sentiranno parte in causa da questo punto di vista. Perché proprio c'è, sia per quanto riguarda, il modo in cui, io dico che ci sono tre nuclei forti che secondo me attraverseranno, poi queste sono previsioni mie perché poi si vede, quando inizia il Salone poi si vede davvero che cosa succede, però da una parte la campagna vaccinale, scusate, da una parte il Covid, dall'altra la guerra, dall'altra il cambiamento climatico, sono le tre grandi cose, le tre grandi emergenze che hanno cambiato o che stanno cambiando profondamente il mondo. La cosa per me allarmante è che forse l'emergenza, senza poter fare, non è che vuole fare una classifica delle tragedie, ma l'emergenza che potrebbe cambiare più profondamente la nostra vita è quella che è più controintuitiva rispetto alla sua presenza, cioè il cambiamento climatico, che è poi il motivo per cui abbiamo chiamato Amitav Ghosh ad aprire il Salone del Libro, perché il cambiamento climatico, a seconda del modo in cui sarà gestito, determinerà anche i temi della pace fra i popoli o dei conflitti fra i popoli, i temi delle risorse, presso la pandemia, noi avevamo avuto ospite, mi sembra sì, l'anno scorso, seppure collegato, l'autore di Spillover, che con dieci anni d'anticipo aveva detto che una delle conseguenze dello sfruttamento indiscriminato del territorio potrebbe essere l'aumento delle pandemie attraverso il salto di specie e l'aveva purtroppo preso, quindi diciamo che il cambiamento climatico non dico che contiene tutti, ma tocca tutti questi aspetti e poi c'è il tema della guerra, il tema appunto del Covid, come è cambiata in maniera improvvisa i tre grandi cigni neri, diciamo così, anche se però il cambiamento climatico non è un cigni nero, è qualcosa che vedevamo, a guardar bene lo si vedeva insomma avvicinarsi, credo che tutti gli autori, tutte le autrici coinvolte si sentiranno coinvolti da questi temi.